Abbiamo voluto dare un segno concreto che la coscienza di questa città è mutata e questa città sa quali sono i suoi veri capitani, le persone che hanno sempre in ogni caso saputo combattere e anche morire per loro. È stato soltanto un gesto pro Palermo non contro Fabrizio Niccoli, non accettiamo che vengano le due cose messe in contrasto.